C'è anche Salerno tra le province di residenza degli indagati nell'operazione eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania contro la pirateria audiovisiva che ha portato ad una serie di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 21 persone. Agli indagati attivi nelle città di Salerno, Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari, la Procura Etnea contesta a vario titolo reati quale l'Associazione per delinquere a carattere transazionale, finalizzata la diffusione di palinzesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica. Diversi centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale che sono stati impegnati in numerose perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale nei confronti degli appartenenti ad un'associazione a delinquere transazionale. Le indagini dirette dalla Procura Distrittuale di Catania hanno permesso di delineare l'esistenza di un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli distinti e ben precisi e con promotori distribuiti sull'intero territorio nazionale e all'estero, avente come finalità la costante distribuzione ad un elevatissimo numero di utenti in ambito nazionale ed internazionale di palinzesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme televisive come ad esempio Sky, The Zone, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV illegali con profitti mensili per svariati milioni di euro. Le condotte illecite sono state consumate in un lungo arco temporale e sono state interrotte grazie all'operazione in corso. Per eludere le investigazioni, gli indagati hanno fatto uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizi e documenti falsi, utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, abbonamenti televisivi e noleggio di server. Riscontrata la presenza su varie piattaforme social di canale, gruppi, account, forum, blog e profili che pubblicizzavano la vendita sul territorio nazionale di flussi, pannelli e abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso i numerosi siti illegali di live streaming.